Siamo in compagnia di Pierluigi Cella e Giulio Testori. Advert, di cosa parliamo? Buonasera, innanzitutto. Advert è un social commerce, è un concetto nuovo dell'internet, sostanzialmente è uno strumento per il marketing e per gli e-commerce. Noi proponiamo agli e-commerce un'affiliazione con noi, noi siamo una piattaforma innanzitutto, e gli proponiamo un'affiliazione e tramite questa affiliazione loro vengono promossi dai nostri utenti. Ovvero noi sfruttiamo il concetto di viralità, che ormai sta iniziando a diventare la base del web, il concetto di viralità per promuovere tutti i loro prodotti su quello che è advert e su tutto quello che sono i social network, come può essere Facebook, Twitter e poi più avanti ce ne saranno anche altri. A che punto è il progetto? Il progetto è nato e partito ufficialmente con una versione beta ad aprile, a inizio aprile. Adesso siamo con circa 500 utenti iscritti. Quindi è già una richiesta, una risposta. Sì, una bella risposta anche perché, mi sono chiesto di dire prima, gli utenti che condividono i prodotti guadagnano, perché su ogni condivisione, nel momento in cui viene effettuata una vendita, advert e di premia, facendoli guadagnare soldi reali. Quindi gli utenti sono molto interessati a questo, perché può anche diventare in casi estremi un lavoro vero, perché prendere e condividere i prodotti, saperli condividere nei canali giusti, può portare anche dei soldi in più, diciamo un extra interessante. Angela. Quindi voi prevedete anche di fare questa parte di analisi o mettete semplicemente a disposizione la piattaforma? No, noi faremo tutto quello che può essere tutte le analisi possibili e stiamo valutando tutte le possibilità. Nel senso che i nostri utenti possono diventare utenti casual, che proprio si creano delle loro nicchie, quindi condividono i prodotti tra gli amici, forse più per rappresentarsi che per fare guadagno effettivo. Oppure ci sono proprio utenti che sono attratti da quello che può essere un facile guadagno, e allora condividono i prodotti in quei canali che possono portare maggiormente ricavi, come può essere un blog, per esempio. Un blog di moda, visto che adesso adverte molto verticale sull'abbigliamento, un blog di moda può essere un ottimo canale per portare soldi, per far soldi sostanzialmente. Ok, grazie. Esperienza del premio? Molto positiva, molto caldo, ma molto molto positiva. Abbiamo conosciuto delle realtà veramente interessanti, non per forza legate al digital, e questo mi fa molto piacere, insomma, perché quando uno parla di innovazione crede sempre di parlare con start-up digitali, high-tech, quando in realtà invece ci sono delle realtà forse molto più interessanti anche non digital, proprio per l'agricoltura, per qualsiasi ambito, insomma, molto molto bello. In bocca al lupo anche a voi, io ringrazio Pierluigi Cella, Giulio Testori.